Il calcio per ascoltare viaggianti su Maran, il nuovo allenatore del Catania e Morimoto. È ritornato Mori, Morimoto, vi è mancato un po' sia in campo che fuori perché con lui si gioca e si scherza sempre, sin dai tempi di Spinesi e Mascara. Sì, infatti hai detto bene, già tanti anni passati è stata una mascotta e continua ad essere nonostante stia crescendo e speriamo che continui a star con noi perché è stato molto importante negli altri anni. L'anno scorso è stato a Novara in presido, ha giocato anche lì con alti e bassi, però è un giocatore molto forte, penso sia uno degli attaccanti più completi che c'è anche in giro. Quindi spero che rimanga con noi e dimostri ancora il suo valore. Un'ultima nota sul nuovo allenatore, su Maran, come vi stai trovando, cosa vi sta spiegando di nuovo rispetto al passato? Per tanti schemi, ancora è presto, comunque stiamo lavorando troppo poco. È una persona che ha voglia, voglia di dimostrare, dare continuità anche al suo lavoro e noi abbiamo la stessa voglia di dare continuità al lavoro dell'anno scorso. Quindi la sua voglia, il suo carattere sicuramente ci darà una mano per continuare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Ciao. Ciao.